Sindaco Panica, noi ne avevamo parlato in occasione della presentazione del libro dell'onorevole che si è occupato di questa legge, ma la legge sui piccoli comuni è passata al Senato ed è diventata legge dello Stato. Sì, si è preso la buona notizia, è stata votata all'unanimità salvo due astenuti, è una legge che viene riconfermata al Senato e quindi vedrà la parte operativa da intraprendere nel prossimo breve periodo. Era stato già parlato del tema in occasione della presentazione del libro Piccole Italie scritte dall'onorevole Enrico Borghi, onorevole che tra l'altro è stato relatore della legge stessa ed è comunque un passo proprietario molto importante perché intraprende attività su temi decisamente fondamentali come la salvaguardia dei piccoli comuni, il distesto ideologico, la stessa salvaguardia degli uffici postali, l'incremento dell'utilizzo della fibra ottica, quindi con tutte le risorse necessarie del caso e soprattutto è anche importante definire quello che è il recupero dei centri storici, centri storici che sono comunque un capitale artistico e infrastrutturale che poi fanno parte del tessuto dei piccoli comuni e quindi di quell'Italia costituita dal 70% di questi enti. Il comune di Ancarano tornerà proprio a celebrare questa legge e lo farà nei prossimi giorni? Sì, noi abbiamo chiesto comunque che possa essere questa la sede anche di una verifica e dunque di una verifica e dell'opportunità che questa legge potrà dare, quindi ho chiesto un incontro all'onorevole affinché insieme si possa comunque definire un'iniziativa comune. Abbiamo un'occasione anche per tornare a uno dei piccoli, grandi problemi proprio del comune di Ancarano che riguarda la situazione delle strade, insomma. Sì, sembra che stia per iniziare gli atti propedeutici per quanto riguarda la strada provinciale che va da Ancarano a Controguera, si ringrazia la provincia per questa sensibile attività in quanto quello è un tratto di strada che più volte è stato segnalato e quindi ha bisogno comunque di interventi importanti perché è un tratto di strada che comunque comunica a due cittadine molto importanti.